Musica Incursione vandalica al palacursica di Gela e non è la prima volta danneggiata le porte d'ingresso, rotti catenacce e portati via gli estintori. Mani ignote hanno rovistato anche negli armadi, chi ha agito inoltre ha reso inagibile il parquet. Un vero e proprio ride. E questa mattina la struttura sportiva avrebbe dovuto ospitare la festa di carnevale alla presenza di migliaia di bambini. Saltata. La struttura è oggetto di interesse da parte di qualcuno e viene sempre continuamente attaccata. Io sporgerò denunce tramite gli uffici competenti per cercare di capire quali siano i motivi di questo attacco. Lei crede che si tratti di un atto di sabotaggio, considerato che oggi proprio al palacursica doveva svolgersi una festa di carnevale in grande stile con la partecipazione di migliaia di studenti? Io non lo escludo come ipotesi. E anche potrebbe essere un motivo per rendere questa struttura inagibile, per far vedere che questa struttura non può essere gestita dal pubblico in una maniera molto forte. Chi agisce sa addirittura tutto dal palacursica. Considerato che hanno agito di sabato, sapevano pure che in quell'occasione al palacursica non c'era nessuno. Sì, infatti anche questa qui è una cosa che fa pensare. Cercheremo di rivolgerci agli agenti di polizia, agli organi di polizia, per vedere un po' di indagare un po' di più su questa faccenda. L'amministrazione comunale di Gera si opererà per dare in gestione la struttura sportiva a qualche società locale. Sarebbe una soluzione interessante, tra l'altro è la soluzione che avevo consigliato sin dall'inizio del mio insediamento, ma per fare gli affidamenti, per fare le gare, per fare tutte le procedure amministrative passano dei tempi che non possiamo permetterci, visto come poi alla fine vanno a finire l'incertezza amministrativa. E tutti i bambini che oggi avrebbero dovuto qui partecipare alla festa di carnevale, oggi che faranno? Oggi sono ognuno nei propri plessi scolastici, nelle proprie palestre, gestite dai propri istituti, dai dirigenti scolastici, e continueranno i festeggiamenti così, insomma, in maniera separata, e poi domani faremo invece il corteo di carnevale. Per quei bambini che oggi, come dicevo, avrebbero dovuto partecipare a questa manifestazione, quanto è accaduto? È un colpo al cuore? Certo che è un colpo al cuore, ma un colpo al cuore di tutta la città, che aspettava questo momento, insomma, se è una struttura pubblica, non serve per fare delle cose pubbliche, insomma, siamo veramente messi male. L'avvertenza Gela si sposta dinanzi all'ufficio delle entrate. Questa mattina sit-in da parte delle organizzazioni sindacali e di alcuni lavoratori. Un presidio che ha un obiettivo ben preciso. Abbiamo fatto una serie di proposte, tra cui anche al Consiglio Comunale, per quanto riguarda le tasse, perché io vorrei capire, come un lavoratore che da quattro mesi non percepisce nessun reddito, tra le altre cose c'è un futuro nebuloso perché c'è l'incertezza occupazionale e non si sa quanto entreranno probabilmente nella migliore delle posse a lavorare questi lavoratori, come potrebbero andare a pagare le tasse. Perciò, sulla vertenza Gela deve essere anche messo un punto chiaro, che sia anche quello della sospensione, di una dilazione, fino a quando c'è un pochettino di un momento di distasi per dare una serenità quantomeno occupazionale per i lavoratori. Perché allo stato attuale si parla di Imo, si parla di tante tasse, si parla di Muti, ma questi padri e famiglie come debbono fare? I lavoratori che rivendicano il diritto sacrosanto al lavoro, perché col lavoro si dà dignità a ogni cittadino, e di conseguenza può pagare tranquillamente le tasse. Se questo non avviene, come può fare un lavoratore a pagare le tasse se non ha un reddito? Nella nostra richiesta al Ministero era questo. Prima il lavoro, poi il resto. Quindi se non c'è questo, siamo alla disperazione. Noi oggi siamo davanti all'agenzia dell'entrata, purtroppo perché l'agenzia rappresenta lo Stato in cui si pagano tutte le tasse. Oggi chiediamo un'attenzione riguardo ai lavoratori dell'indotto e tutto il comprensorio di Gela. In questo momento, perché siamo in seria difficoltà, e stiamo cercando di ammortizzare un problema che è diventato serio e problematico. E chiediamo l'intervento dello Stato serio, non scherzando. La situazione occupazionale a Gela si è fatta difficilissima? Vado avanti così, alla giornata, sono depressate. Come infatti quest'anno sono stato sfrattato, e quindi c'è un anno che senza avere soldi... E ora non so proprio cosa devo fare. Però le tasse da pagare arrivano sempre? Sì. E come fai? Non le pago, non le pago, non le pago niente. Perché non ho lavoro, purtroppo non c'è niente. Ti piace questa festa? Sì. Noi rappresentiamo la carta differenzata, questa scuola è molto bella. Sono i bambini che si sono voluti vestire come hanno voluto, e siamo insieme qua all'interno di questa manifestazione per partecipare anche nel sociale. La nostra scuola è il primo circolo, insieme a tutte le altre scuole, e portare un po' di festa all'intera cittadinanza. Nonostante la crisi e l'aria pesante che si respira in città, non avete rinunciato ad un momento di festa per i bambini. Come la stanno vivendo e che cosa rappresentate? No, infatti, assolutamente, anche questa per noi è attività didattica, e vogliamo fortemente lanciare un messaggio educativo. Fare una corretta raccolta differenziata, conferire nei giorni stabiliti il rifiuto corretto. Quindi ciascuna interclasse ha scelto un giorno della settimana e poi l'ha realizzato, così come vedete, con i bambini, in maniera ludica e didattica. Dal mare inquinato invece al mare pulito, questi bambini rappresentano quello che potrebbe essere la risorsa più importante della nostra città. Il mare che vorrebbero loro, un mare pulito, un mare pieno di pesci, pieno di cose belle, ecco. Loro lo rappresentano benissimo. Ancora una volta un altro momento di festa per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. In occasione del Carnevale vedo una grande partecipazione da parte di tutti gli istituti scolastici e speriamo di poterci divertire anche questa sera e di poter passeggiare in maniera molto libera e divertente. Assessore, si è detto tante volte che nonostante il periodo buio che sta attraversando questa città era doveroso regalare un momento di allegria e divertimento ai bambini e in effetti i bambini sono scesi in piazza con il loro sorriso e si stanno molto divertendo. Li ringraziamo per la loro adesione, la loro felicità e anche per essersi industriati a fare costumi secondo i temi che l'amministrazione aveva segnalato e speriamo davvero il prossimo anno di poterlo fare un po' meglio facendoli programmare di più sia gli insegnanti che gli istituti scolastici per incominciare a fare qualche carro ma sempre fatto qua a Gela e non importato da altre zone della Sicilia perché non ha senso per me. E' più bello che i ragazzi facciano qualcosa per la città. Tra i temi scelti c'è la raccolta differenziata, forse è il tema che è andato per la maggiore. Sì, è andato per la maggiore, ma c'erano anche le civiltà antiche abbiamo visto degli antichi egizi, poi qualche supereroe in giro che era tra i temi del carnevale. Devo essere sincero, abbiamo avuto una grande collaborazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Protesta dinanzi al comune di Gela, l'ennesima, questa volta a far sentire la loro voce sono stati lavoratori del reddito minimo di inserimento, 78 unità. Per motivi burocratici nel mese di gennaio non hanno svolto alcuna attività lavorativa in attesa che dalla regione venisse garantita la copertura finanziaria. Chiedono all'amministrazione di poter recuperare le ore perse a gennaio nei mesi successivi. Sappiamo che la regione è stata finanziata da gennaio ad aprile e non ci è stato versato questo mese. In pratica ci hanno detto che ci daranno soltanto l'anticipazione del mese di febbraio cosa che noi ancora non abbiamo completato. Noi dovremmo dare le 80 ore che non ci hanno fatto perdere per via della burocrazia. Noi chiediamo i nostri diritti perché abbiamo bisogno di mangiare. Da dicembre non vediamo un centesimo. E noi oggi, visto che il sindaco è convinto che a noi ci piace chiamare la stampa e fare i teatrini, allora diciamo al sindaco che è un'anticipazione che se oggi non include qualcosa ci leghiamo tutti là sopra e portiamo anche la famiglia. Perché siamo stanchi, perché i figli hanno fame, devono andare a scuola. Non hanno il panino, non hanno i libri, non hanno niente. Quindi deve provvedere in qualche modo. Non esistono solo gli altri, esistiamo anche noi. Da 14 anni che facciamo la fame. Il sindaco ci ha promesso che non ci doveva fare perdere il mese di gennaio. Noi ancora non abbiamo né carta scritta, dice solo chiacchiere, perdiamo tempo a venire qua invece di andare a lavorare, dobbiamo prendere il permesso, ci levano le ore di lavoro. Ma noi siamo stanchi. A casa i nostri figli stanno soffrendo. Chi perde la casa, chi ha uno sfratto, chi non può pagare l'assicurazione della macchina, siamo stanchi. È necessario precisare come, di fatti, gli MRMI dal 1 febbraio siano effettivamente scesi a lavorare. La fattispecie, quindi la manifestazione odierna, è legata ad una garanzia relativamente a quello che può essere il mese di gennaio. Per cui rispetto a questo stiamo verificando con i dirigenti e poi lo verificheremo anche con l'assessorato regionale. Speriamo in tempi brevi, la stessa parte nostra è quello di potergli dare una risposta in tempi brevi. Per cui è strana, non ce l'aspettavamo, perché comunque il primo di febbraio va precisato che gli stessi sono già scesi regolarmente al lavoro. Però loro sostengono che c'è la copertura finanziaria da parte della Regione e dunque adesso tocca al Comune. Loro lo sostengono, noi riprendiamo atto, siamo anche noi convinti che possa essere così, però siccome non siamo a casa nostra ci sono degli itere, delle cose che devono essere necessariamente rispettate. Per cui speriamo di farlo e ci auguriamo che insieme ai dirigenti di riuscire in tempi brevi in questo e potergli dare la risposta in tempi cederi. Piazza Municipio è divenuta oramai piazza delle proteste, tutti chiedono interventi immediati alla Giunta Comunale. Questa è una città in cui lo stato di bisogno, la situazione è così complessa e difficile che dire che non ce l'aspettiamo è francamente dire per certi versi anche una mezza bugia. C'è una situazione difficile in questa città e quindi spesso la protesta diventa anche un modo da parte di tanti di provare ad accelerare determinati percorsi. È giusto, è giusto che sia così, però è un fatto oggettivo nel senso che la situazione in questa città è parecchio complessa. Dunque possiamo dare una data a chi protesta per la risoluzione del problema? Ci riferiamo agli RMI. Speriamo, arrabbedisco, che nei primi giorni della prossima settimana riceviamo anche noi degli riscontri oggettivi e potergli dare concretamente una risposta. Dall'ufficio delle entrate alla sede dell'Inps cambia la location ma non il contenuto. Dopo il sit-in di lunedì scorso, gli operai dell'indotto dello stabilimento Eni si sono spostati in via Torino dinanzi ai locali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Fermi da tre anni, dipendenti delle imprese appaltatrici chiedono all'Eni il rispetto degli accordi sottoscritti e l'avvio dei cantieri per la riconversione green della raffineria, passando dal petrolio alla produzione di biocarburanti. Tanti incontri di verifica dell'intesa e propedeutici alla firma di un accordo di programma hanno finora prodotto soltanto una proroga della cassa integrazione per i primi tre mesi di quest'anno. L'avvertenza Gela ormai è diventata una protesta itinerante. Oggi avete presidiato uno degli istituti principali del nostro ordinamento. Sì, siamo qui per dire ancora una volta che bisogna fare in fretta perché questi lavoratori attendono il pagamento degli ammortizzatori ordinari in deroga e uno di quei punti messi a inviare al Ministero è proprio questo, accelerare gli iter autorizzativi per pagamento degli ammortizzatori sociali e non solo, decontribuire anche alle imprese l'accesso agli ammortizzatori sociali perché voglio ricordare ancora una volta che ci sono aziende che possono attivare gli ammortizzatori sociali ma non lo fanno perché il costo è diventato eccessivo con la nuova riforma del lavoro. Quindi bisogna decontribuire l'accesso agli ammortizzatori sociali per permettere a questi lavoratori di avere almeno un sussidio sussidio che ancora una volta noi vogliamo fosse più breve possibile perché vogliamo l'attivazione di quegli investimenti che sono programmati nel protocollo. Quindi diciamo alla politica regionale e nazionale facciamo in fretta per questi lavoratori che stanno soffrendo. Voi in prima battuta chiedete che vengano riattivati e si possa attingere agli ammortizzatori sociali ma in realtà il vostro obiettivo è l'investimento serio? Non vorrei che questo sitino all'Inps passi il messaggio che i lavoratori sono qua per gli ammortizzatori sociali è evidente che sono qua per la vertenza Gela che è man mano increscente. La sede all'Inps è una sede istituzionale in cui ovviamente rientrano nella vertenza Gela che le date importanti voglio ricordarlo sono quelle del 18 e del 24 al Ministero. È chiaro che ci sono qua lavoratori che stanno ancora arrancando con gli ammortizzatori sociali che sono in scadenza. Emblematicamente chiaramente la sede opportuna è anche quella dell'Inps. Niente togliente al lavoro che stanno facendo i funzionari dell'Inps ma è chiaro che bisogna anche sburocratizzare e rendere più cera le determinate pratiche affinché i lavoratori non arrancano con tutte le situazioni che ci sono. Il Partito Democratico dopo l'elezione del nuovo segretario cittadino Giuseppe Di Cristina venuta domenica scorsa ha presentato la sua squadra questa mattina durante una conferenza stampa. Si è parlato tra l'altro dell'avvertenza Enigela e di come il PD cercherà di affrontarla. I partiti hanno il dovere di dare il rappresentante alle istanze dei lavoratori e noi per questo abbiamo deciso oggi di chiedere agli organismi regionali e nazionali di intervenire facendo subito un'iniziativa forte, convocando la direzione regionale del partito a Gele insieme al segretario regionale, l'onorevole Ragiti, per essere interpreti di un disagio che questa città non merita. Noi in questo momento dobbiamo stare a fianco ai lavoratori. Il deputato regionale Giuseppe Rancio è entrato nel merito della vicenda che interessa l'Ala Renziana che proprio domenica scorsa nel corso del congresso ha disertato l'appuntamento preannunciando ricorso per un congresso definito illegittimo etichettandolo come il congresso di carnevale. Noi abbiamo celebrato un congresso in cui erano presenti due circoli per intero e il 50% dell'altro circolo. Quindi è un congresso ortodosso, poi gli altri possono fare quello che vogliono e non ci interessa. Al congresso era presente all'incirca quasi il 50% dell'area renziana perché l'area renziana è un'area vasta, c'era Giacomo Pulizzi, Cirignotta, Lugiana Garfi che sono una parte rilevante di quest'area. Quelli che sono rimasti sono l'area che sono vicina a Fasulo, l'area fasuliana che non capisco perché il congresso era aperto a tutti, c'era un accordo di come procedere, c'erano delle pregiudiziali che erano state poste dal loro leader, che erano state ambiamente accolte. Eravamo nella fase in cui tutto ciò che poteva creare un ostacolo a fare un congresso unitario era stato rimosso. Poi da lì dovevano essere dopo in ulteriore riunione e concordare gli assetti. Però questa finale non c'è stata perché praticamente dopo la riunione la sera stessa i consiglieri comunali hanno disconvermato l'accordo. Il Partito Democratico e Gela è preseduto da Claudia Caizza. Cercherò di mettere a servizio di questo partito l'esperienza che ho acquisito in questi anni a fianco di dirigenti importanti, come segretario di circolo, del primo circolo e sono orgogliosa di affiancarmi alle nuove leve del partito, a nuovi giovani che si affacciano a questo partito per dare un contributo importante. Abbiamo il segretario Peppe Di Cristina, ha voluto costruire una squadra nuova, una squadra di giovani, donne e uomini che hanno una loro esperienza, un forte radicamento sul territorio, persone sulla cui serietà e sulla cui rispettabilità non c'è nulla da eccepire e che vogliono spendersi per questo partito. Pace fatta tra l'assessore comunale Eugenio Catani ed il dirigente del settore ambiente ed ecologia del comune di Gela, Emanuele Tuccio. Questa mattina i due si sono incontrati al palazzo di città e dopo l'incontro a Porti Giuse hanno chiarito la vicenda. Ieri si era verificato un fatto increscioso nei locali municipali di Viale Mediterraneo. E' proprio lo stesso assessore a raccontare la versione dei fatti. Un colloquio diciamo animato, può essere stato animato, può essere stato duro insomma su delle cose di funzione amministrativa perché il protocollo ne abbiamo, abbiamo due postazioni dentro il plesso ma tutte e due insomma non protocollavano le cose del settore sport e eventi. Il dirigente Tuccio aveva le sue ragioni, io avevo le mie perché la polizia di Vincenzo Presti e il Palacossiga devono essere rimessi in ordine. Ci siamo coordinati insomma malamente, poi vabbè qualcuno ha strumentalizzato la questione a livello politico. I nostri rapporti personali che vanno al di là di quelli lavorativi sono sempre ottimi. Ma l'aggressione verbale e fisica c'è stata? Non c'è stata nessuna aggressione fisica o verbale irruenda, c'è stata una discussione come avviene in tutti gli ambienti di lavoro e sono sicuro che chi lavora in un pubblico o nel privato o a Calterco con i suoi colleghi li ha sempre avuti. Quando è caduto non fa il bene della città? Quando è caduto non fa il bene della città, doveva essere senza dubbio rimanere insomma nelle porte del nostro ente perché noi lavoriamo entrambi, sia il dirigente che la politica per il bene della città. Il nostro interesse è quello di fare il bene della città e quando c'è anche da chiarire alcune note, alcuni atti bisogna farlo anche in maniera dura. Il confronto è sempre serrato e io sono disponibile al confronto con tutti. In consiglio comunale ieri non ho smentito perché poi a un certo punto la seduta si è interrotta. Abbiamo preferito per non dare modo insomma ai consiglieri di annullare la seduta per il bilancio e la stessa cosa ha fatto l'architetto Tuccio che doveva essere presente pure lui per evitare che questo venisse strumentalizzato politicamente da parte di chi nei precedenti cinque anni non ha saputo amministrare questa città. Lei ha parlato col sindaco stamattina e cosa vi siete detti? Sindaco è sereno, io ho la piena fiducia del sindaco, sono un uomo di sua fiducia e rimango, il mio mandato è sempre nelle sue mani e quando vuole mi può togliere l'incarico oppure affidare altre deleghe. Oggi architetto Tuccio stretto di mano con l'assessore Catania e dopo di che caffè? Senz'altro ci mancherebbe, non siamo per fare né liti né cose, lavoriamo tutti con difficoltà, immagino che possa essere questo qua uno dei motivi di questa diverbia, perché anche se in ruoli diversi penso che tutti in modo diverso subiamo un po' di disordine organizzativo al quale penso bisogna porre il rimedio, cioè questo è uno dei motivi sicuramente. Il tentativo mio è quello di cercare di dare linearità all'attività del mio settore, diciamo delle competenze che ho. probabilmente queste magari vanno un po' spiegate e magari possono determinare qualche incomprensione. Sui modi, ognuno ha i suoi modi, di conseguenza dico ma non voglio parlare del passato, voglio parlare del futuro, per cui penso che la cosa più utile sia che ci sia questa disponibilità al chiarimento e che c'è stato probabilmente un equivoco in modi magari inappropriati, però penso che anche in ruoli diversi non possiamo che lavorare per cercare di risolvere le cose. Tra l'altro ne ho parlato pure col sindaco, oltre che con Eugenio Catania, che tra l'altro c'è una persona che conosco e finora abbiamo avuto rapporti molto buoni, personali, anche di famiglia, perché la cosa mi ha sorpreso alquanti, diciamo, questa alterazione. Probabilmente, non so, l'ha spiegato già Ludico, non voglio entrare nel merito delle sue spiegazioni, posso parlare di me. Cerchiamo di lavorare per fare le cose buone. Anche da parte mia c'è stata un'alterazione, non alterazione da parte mia, ho subito un'alterazione che ritengo di aver subito. Ci siamo chiariti che probabilmente è stato frutto, nel senso che ognuno ha i suoi modi, i comportamenti, il mio carattere e i suoi, per cui magari la stesse cose le viviamo in maniera diversa. Ora, non voglio entrare nel merito di queste cose. Penso che la cosa più utile per noi e anche per il lavoro che facciamo è, diciamo, di avere chiarito che si tratta di modi forse interpretati male, che speriamo, no speriamo, sono sicuro che non si potranno ripetere, anche aiutati da un'organizzazione, dall'amministrazione alla quale stiamo cercando di lavorare per garantire l'efficienza che ancora non abbiamo raggiunto. Preside, questi sono i giorni in cui gli adolescenti scelgono di dare un indirizzo definitivo per la loro vita. Il suo consiglio qual è? Il mio consiglio è quello di valutare bene ciò che la scuola propone. In questo caso il nostro istituto fa tanto, ha fatto tanto e propone molte alternative, in virtù anche della legge sulla buona scuola, quindi sull'alternanza scuola-lavoro, su questo si sta attivando e sicuramente avremo modo di acquisire molte competenze attraverso il contributo delle aziende che lo Stato ci mette a disposizione. Sono uno studente che ha partecipato al progetto Erasmus Plus, precisamente in Francia, a Bordeaux, ho lavorato in un hotel e grazie a questa scuola mi ha permesso anche di capire il valore del lavoro, di alzarsi appunto presto la mattina, prendere il tram facendo tutto indipendente. Anche dal punto di vista linguistico ho migliorato molto proprio perché ho vissuto in famiglia e mi ha concesso insomma di migliorare il mio bagaglio culturale ma anche linguistico. Sono un'alunna della Quinta Bituristico e già questo è il secondo anno che la mia scuola sta partecipando a questo gemellaggio tra la scuola di Gela, la Luigi Sturcio appunto, è la scuola di Copenaghen. Io quest'anno avrò l'occasione appunto di viaggiare insieme ad altri ragazzi e anche al professore Nalbone, avrò l'occasione di appunto interloquire con questi nuovi ragazzi, con una nuova realtà che è totalmente diversa dalla nostra e spero vivamente di arricchire anche io il mio bagaglio culturale perché ovviamente credo e spero sarà un'esperienza indimenticabile. Mi chiamo Alessia, frequento la Quarta FM ovvero amministrazione, finanza e marketing. Venire nella nostra scuola è una grande opportunità perché avete la possibilità di dopo il conseguimento dei cinque anni vi verrà rilasciato il diploma che vi permetterà di mettervi subito nel mondo del lavoro. L'ambiente è subito accogliente, anche i professori sono molto disponibili e non dovete avere nessun timore a relazionarvi con loro. Stando all'economia aziendale avrete la possibilità di studiare due lingue, l'inglese e francese che potrete approfondire conseguendo corsi Trinity e DERF con degli esperti madrelingua. Frequendo l'ultimo anno dell'indirizzo sistemi informativi aziendali, ho scelto appunto questo indirizzo perché credo comunque che l'informatica sia utile nell'ambito aziendale per il controllo e la gestione dei dati. Inoltre c'è il rapporto con i nostri professori un rapporto amichevole e diciamo che noi impariamo anche, cioè non solo noi impariamo da loro ma anche i professori imparano da noi. Infatti molto spesso ci chiedono appunto dei consigli quando utilizziamo le nuove tecnologie, ad esempio le lavagne interattive o comunque computer che loro appunto hanno qualche difficoltà. Quindi abbiamo questo rapporto amichevole con i professori. Sono Giorgia, frequento il quinto anno dell'Istituto Tecnico Commerciale e indirizzo sistemi informativi aziendali. La nostra scuola offre l'attenanza scuola-lavoro e io personalmente ho partecipato al progetto Erasmus Plus e consisteva nel soggiornare in Irlanda per cinque settimane. La prima settimana ho frequentato un college e per quattro settimane invece sono stata impiegata in un lavoro. Questa esperienza ha arricchito il mio curriculum, di fatti un giorno se troverò un lavoro sarà anche grazie a questa scuola.